In testa della classifica c'è un tiro di Cosano dalla lunga distanza, come al solito Andrea Il colpo di tacco per Mantuana anticipato da Longo, poi c'è il passaggio sbagliato ma c'è il giocatore Alamedino che è finito a terra Lucia a sinistra, scodella in avanti, il colpo di tacco di Patamia, le masi, le finte, le masi in mezzo a due Sulla palla c'è spiccato sopra, Marletta davanti alla porta, riesce a servire il compagno, il numero 22 Passa in vantaggio la formazione ospite, ancora ecosystem nel possesso palla, Mantuano va al tiro di prima intenzione Cosano va alla battuta, la respinta, Patamia si accentra alla conclusione, la respinta e poi non riesce Barbosa a spingere il pallone dentro La palla è dall'altra parte per la conclusione, Barbosa sulla ripartenza, Cosano mette fuori Demasi, Coco, la conclusione è la grande risposta di Rapisalda Demasi, Demasi, la puntata alta Demasi, la conclusione ribattuta quasi sulla linea dal giocatore del Patamia Dietro per Montesantino, troppo debole il tiro La conclusione con palla che attraversa lo specchio della porta Finisce qua il primo tempo, sul punteggio di 1-0 per la formazione ospite Inizia in questo istante il secondo tempo Regner, la conclusione, la respinta con i piedi del portiere Rapisalda Barbosa pronto alla battuta, mette in mezzo il gol del pareggio della formazione Lametina Marletta si accentra, va alla conclusione, la respinta Ancora Barbosa, Montuano anticipo Dietro per la conclusione di Nicolosi, toccata Leggio di ritorno di Demasi che poi riesce a conquistare palla Valtiro alto, allarga Caffarelli Demasi L'anticipo di Nicolosi sul Regner che è rimasto troppo fermo Ora la conclusione di Cagliardi out Marletta ha saltato Patamia, Marletta Palla messa in mezzo, Nicolosi, schiafalle Bossa dietro per Demasi L'imbucata per Regner davanti al portiere Non riesce a deviare, ora Nicolosi Cerca di saltare l'avversario in velocità La sua conclusione, la ribattuta Regner La conclusione Ancora Masca Lucia Ancora palla per Longo che colpisce la traversa Longo ancora Palla dietro per Nicolosi che cerca il tiro Demasi sulla sinistra, palla per Barbosa La conclusione al volo, due volte Tentate il tiro al volo Ora il passaggio per Patamia Lo chiude la Pisarda davanti alla porta Palla scotellata fuori La conclusione al volo E la parata L'anticipo di Cosano La conclusione La parata di Pardale Caccio d'angolo fuori per Nicolosi Questa volta scotellata fuori per Nicolosi E ancora una rovesciata Messa in angolo da Pardale Metto il quinto uomo La formazione della metina La partita è finita praticamente All'angolo Palla messa dentro da Mantuano E per poco non c'è l'autorete Mette in mezzo Barbosa Ancora calcio d'angolo La partita è finita L'ultima occasione La respinta del portiere E finisce qua Primo pareggio interno Per la formazione della metina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti